La nuova lista di mister Alessandro Settineri sul campo pareggia per 2-2 in caso della nuova città di Gera nel primo turno di Coppa Italia, mentre il direttore sportivo Massimo Ferraro è imbegnato sul calciomercato per l'ultima operazione di rafforzamento. La città biancoscudata nelle scorse ore ha annunciato altri due nuovi arrivi, due nisseni doc due giovani, come il classe 2005 Simona Martorana e il classe 2004 Flavio Nuccio. Simone Martorana ha cresciuto nel vivaio della CL Calcio, l'anno scorso ha militato nella Santa Sofia Licata nei campionati regionali giovanili, mentre Flavio Nuccio, ex settore gioinile dello Sport Club Nisse 1962 e della San Cataldese, già aveva militato l'anno scorso nella Nisse, facendo pure qualche breve apparizione. I due ragazzi hanno già esordito a Gera domenica scorsa, con Martorana che è addirittura partito titolare, mentre Nuccio è stato impiegato nella ripresa. Due ragazzi nisseni, su cui punta molto la città biancoscudata, sempre molto attenti a valorizzare il prodotto locale.